E' di un morto e di un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto ieri intorno alle 18 sulla SS 106 nel territorio di Rossano all'altezza della centrale termoelettrica Enel. Un uomo, Mario De Gennaro, 62 anni, di Corigliano Calabro, era alla guida della Chevrolet Matiz che si è scontrata per causa in corso di accertamento con una Fiat Panda guidata da una donna di 32 anni. Sulla dinamica dell'incidente lavorano le forze dell'ordine, sul posto i vigili del fuoco, personale dell'ANAS, un'ambulanza del 118 che ha trasportato Mario De Gennaro in ospedale dove è deceduto poco dopo. La donna ha riportato delle ferite a un ginocchio. A intervenire la polizia stradale di Trebisacce, dalle 18 traffico interrotto per i rilievi, lunghi incolonamenti sulla statale con gravi disagi alla circolazione. Per circa due ore si è proceduto a transitare in senso unico alternato. Grazie a tutti.